Noi facciamo delle esercitazioni in pellicola a 35 mm e penso che sia molto utile da un punto di vista didattico perché insegna a guardare con gli occhi, non attraverso i monitor, attraverso dei filtri, ma a vedere quello che uno sta illuminando. Quindi questo approccio diretto all'illuminazione è molto formativo.